Bene, finiti gli interventi, il Sindaco ha risposto, abbiamo capito, possiamo votare, dichiarazione di voto, se ci sono dichiarazioni di voto. Bene, mettiamo in votazione il punto numero 8 all'ora del giorno, nulla osta al rilascio dell'azienda unità sanitaria locale di Ferrara, di permesso di costruire in deroga le disposizioni PRG ai sensi dell'articolo 15 della legge 31-2002 per demolizione e ricostruzione con ampliamento di Palazzina su via Cremonino per ricavare un nuovo pronto soccorso dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Cento, che è favorevole, favorevoli gruppo PD, Federazione Uniera Sinistra, PDL, noi che, che è contrario, chi si astiene, astenuto la Lega. Approvato a maggioranza. Se io devo uscire all'emendamento, se c'è un emendamento protocollato, eccetera, eccetera, lo caneggio è a Ragnanelli, è bisogno, si deve, perché c'è un emendamento Magagno, ma la Commissione l'ha votato un anno e mezza. Perfetto. Torrio o Bagliato? No, 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 no. Regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di trasferta e di missione agli amministratori locali approvazione. Il Presidente della Commissione ha degli impegni per cui lassia l'Aula. Lasciamo la relazione al Vice Presidente della Commissione, Consigliere Dinelli. Presidente della Commissione, Consigliere Dice, Consigliere Dice, Consigliere Dice, Consigliere Dice, Consigliere Dice. Che ci era detto? Certo, questo era il senso del mio invito. Prego. No, spinga, Consigliere. Spinga, è acceso? Ecco. Prego. No, allora, no, rispinga, no, va bene, ma, ferma. Spinga. Spinga. Ferma. Comitica sostanza. No, rispinga. Ecco. Ferma, ferma. Prego. Bene, dunque, in merito all'oggetto che andiamo ad approvare, quindi il regolamento, in Commissione bilancio, dopo aver discusso, abbiamo deciso di apportare allo stesso un emendamento, che adesso leggo. In ottemperanza, a quanto disposto dalla Commissione bilancio affari generali risorse, nella seduta di venerdì 20 gennaio 2012, su proposta del Consigliere comunale del gruppo Lega Nord, Lorenzo Magagna, in riferimento alla proposta di delibera ad oggetto, regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di trasferta e di missione agli amministratori locali, approvazione, questo è l'oggetto all'ordine del giorno, iscritta al punto 9 dell'Odg del Consiglio comunale del 25.1.2012, di proporre il seguente emendamento al testo regolamentare. Articolo 6, altre spese. Al comma 1, secondo capoverso, sostituite le parole fino a 4 stelle con le parole fino a 3 stelle. Emendamento chiarissimo, per cui lo mettiamo in votazione. Allora facciamo intervenire il Signor Sindaco, col parere del Dirigente. Prego, Signor Sindaco. Sì, beh, solo per inquadrare un attimo di cosa stiamo parlando in generale, a prescindere dall'emendamento, è il regolamento per la disciplina del rimborso delle spese di trasferta e di missione agli amministratori locali, sostanzialmente è un aggiornamento del precedente regolamento ai sensi di sopravvenute modificazioni normative, è stato analizzato in maniera piuttosto puntuale in Commissione, dove ci si è concentrati per un certo numero di minuti, su un passaggio che era quello relativo al numero delle stelle degli alberghi, indicate come limite massimo per l'individuazione degli alberghi, appunto dove gli amministratori in caso di trasferta documentata e motivata possono alloggiare. Il regolamento nella versione, così come licenziata dagli uffici, fissava un tetto di 4 stelle e il Consigliere Magagna aveva proposto di limitarlo a 3, fatto salvo che in ogni caso invariato è rimasto il tetto di spesa complessivo che è andato a ridursi nell'attuale stesura rispetto a quanto previsto nella stesura precedente. Il tetto di spesa che sta, mi par di ricordare, nell'ipotesi di dimissione a più ampio raggio, nei 175 Euro giorno tra pranzo, cena e pernottamento. Quindi è evidente, e di questo ne eravamo consapevoli tutti in Commissione, i signi consiglieri che gli rappresentanti della Giunta, che nel caso si stava ragionando di 4 stelle parecchio decaduti perché poteva essere un po' complicato, ma nonostante questo il Capogruppo Magagna ha posto una questione di natura più fortemente simbolica, cioè di dire diamo un segnale e in questo senso è stato recepito dalla Commissione in maniera unanime e anche da chi che ero io rappresentava la Giunta in quel contesto. Do invece atto del parere di regolarità tecnica pervenuto a seguito della proposta di dimendamento che come sapete deve essere istruita perché va a intervenire sul regolamento, a firma del Dottor Mauro Zuntini che peraltro è presente, ma per non mischiare i ruoli, visto che ne do lettura io, il testo dice «Vista la proposta di emendamento, e non la rileggo, visto l'articolo 49,1 del Decreto Legislativo 18.08.2000, numero 267, esprime parere di regolarità tecnica non favorevole per i seguenti motivi. L'articolo 4 rinvio all'autonomia normativa degli enti locali del Decreto 4 agosto 2011 del Ministero dell'Interno, congiuntamente con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomia Locali, concernente la fissazione della misura del rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenuto dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali, afferma che, cito testualmente, ferme restando le tipologie di missione previste dall'articolo 3,1, gli enti locali possono, nell'esercizio della proroga della propria autonomia finanziaria, rideterminare in riduzione le misure dei rimborsi. Da tale norma pare pertanto evincersi che l'autonomia regolamentare dell'ente comune sia limitata esclusivamente alla fissazione di un valore massimo di rimborso inferiore rispetto ai valori indicati nell'articolo 3 del decreto citato e quindi non possono derogare quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dirigenti vigente, cui rimanda la norma. Inoltre i titolari di strutture ricettive devono comunicare alla provincia di riferimento i prezzi massimi praticati che non necessariamente devono essere inferiori a quelli della categoria superiore, dipendendo dalla fissazione del prezzo da una valutazione esclusiva dell'imprenditore e non essendo soggetto all'approvazione dell'ente locale territoriale. Insomma sostanzialmente pare di capire che il limite di manovra dell'ente locale sia sulla fissazione del quanto e non della categoria, perché la categoria rinvia a una legge di carattere nazionale del contratto nazionale dei dirigenti. Per questi motivi ovviamente penso fosse già in cartellina anche il parere, immagino, e quindi qualora non ci fosse ovviamente a disposizione in copia. Se vi fa comodo possiamo anche chiedere a Rino, mentre andiamo avanti, di fare semplicemente una copia per il gruppo, quindi direi 5 fotocopie. Grazie a tutti. Consigliere Magagni ha chiesto la parola. Prego. Prendo atto che questo emendamento non sarà accolto per questioni tecniche, però non mi trovo d'accordo. Io non la vedo così. Secondo me era un emendamento di buonsenso, perché un cittadino che vede, anche se il tetto di spesa non gli permetteva di andare in un quattro stelle, un cittadino che vede che in un regolamento che un amministratore può andare in un hotel a quattro stelle, sicuramente non la prende quantomeno bene e non gli piace questa cosa, perché un amministratore che va in trasferta, in missione, potrebbe andare bene anche in due stelle, perché è importante che abbia un tetto. Lo so che questo non dipende all'amministrazione è una questione tecnica, però la cosa sinceramente mi dispiace, non la condivido e per questo quindi mi asterrò dal votare questo regolamento. Io lo condividevo, però lo so che la sostanza non cambia, però secondo me è importante anche la forma e quelle quattro stelle lì, secondo me c'è una stella di troppo, quindi mi asterrò dal votare questa delibera. Grazie. Bene, consigliere Magagna, allora a questo punto io metterei in votazione l'emendamento se non ci sono più interventi. Grazie a tutti. Bene, mettiamo in votazione l'emendamento, un oggetto che è favorevole? Facciamo parlare il dirigente. C'è un problema, dopo c'è un problema sicuramente interpretativo, a mio avviso non può essere applicato, però ciò non toglie che debba essere votato. Abbiamo chiarito? Sì. Prego, prego. Consigliere Cariani, capogruppo, prego. Pensavo non ce ne fosse bisogno, ma credo a questo punto intervengo per un chiarimento. il PD era disponibile a votare a favore qualora gli uffici avessero dato la regolarità tecnica. Mi sembra che nel momento in cui arriva che non c'è la regolarità tecnica, perché ci sono delle norme che fissano determinati parametri, non capisco per quale motivo noi dovremmo votare a favore. È un controsenso, sarebbe come andare a votare contro delle leggi nazionali già esistenti. Quindi il nostro voto è il contrario. Grazie. Qualche altro chiarimento? No, mi sembra che... Allora mettiamo in votazione questo emendamento. Chi è favorevole? Nessuno. Chi è contrario? Contrario gruppo PD, Federazione della Sinistra e Unione della Sinistra. Chi si astiene? Astenuto, PDL, Noiche e Lega Nord. Emendamento respinto. Adesso andiamo a votare il regolamento, un toto. Chi è favorevole? Chi è favorevole? A regolamento. Favorevole gruppo del PD, Federazione della Sinistra e Unione della Sinistra. Chi è contrario? Chi si astiene? Astenuto PDL, Noiche e Lega Nord. Approvato. Arriviamo all'ultimo punto all'ordine del giorno. Interrogazione e interpellanza. Prego, parola al Consigliere Magagna. Prego. Grazie Presidente. Le mie non sono proprio interrogazioni, più che altro che volevo chiedere delle precisazioni. Allora, stasera prima del Consiglio il Sindaco ha parlato con alcune persone e io mi ricollego all'argomento che probabilmente gli hanno parlato. Io feci un'interrogazione sull'isola ecologica davanti alle scuole elementari, il Sindaco nella sua risposta mi disse che doveva verificare se c'era tutta norma e poi me ne avrebbe comunicato se la cosa andava bene. Questo è avvenuto il 25 ottobre, sono passati tre mesi, quindi volevo capire se allora quell'isola ecologica può star lì oppure non può star lì. Perché se vedendo le ultime notizie, sentendo le ultime notizie di cronaca avvenute nel Lombardo, dove per altre motivazioni che non c'entrano le isole ecologiche, però purtroppo due bambini sono morti schiacciati mentre si andevano per andare a scuola, non vorrei mai che se questa isola ecologica dimostrasse la sua pericolosità, come io ritengo possa avere, possa causare delle problematiche di questa entità. Quindi se si potesse evitare una tragedia del genere, secondo me sarebbe tutto di guadagnato soprattutto per i bimbi e per i genitori e questa è la prima precisazione. La seconda invece chiedevo, ho chiesto tre accessi agli atti in data 2 gennaio 2012, nello specifico avevo chiesto notizie sull'ispettore ministeriale che è venuto qua a fare una visitina al Comune nel novembre e dicembre, sono stati dati gli atti e quindi sono a posto, avevo chiesto entità del costo dell'illuminazione natalizia, questa non mi è stata consegnata ancora, non capisco il perché, ma non è il motivo della precisazione attuale. Il terzo invece che avevo chiesto era il capitolato per l'assegnazione del Carnevale. Allora adesso io vorrei capire una cosa, dato che è scaduto nel 2012, se non mi è ancora stato consegnato, le motivi possono essere solo due. O non mi è stato dato perché essendo forza di opposizione sono brutto e cattivo, cosa che non credo, o cosa ancora più grave, non mi è stato dato perché non esiste. Se non esiste è gravissimo, perché è scaduto nel 2011, fra due settimane inizia il Carnevale, girano un bel po' di soldi col Carnevale, ci sono un bel po' di responsabilità da mettere in chiaro chi ha colpa di questo, chi è che deve far questo, chi è che deve far questo, quindi non capisco, perché se esistesse secondo me il giorno dopo che c'è la richiesta degli atti, doveva essermi consegnato, dato che mi è stato dato un faldone invece alto così che era molto più sull'ispettore che era venuto qua, che quindi era molto più difficile da consegnare, invece qui non mi è stato consegnato niente, quindi la mia precisazione prima di fare un'interpellanza così era capire cosa mi diceva il Sindaco, perché secondo me su una cosa così mi doveva essere già consegnato il materiale, quindi se non c'è, cioè se è stato perché sono brutto e cattivo dell'opposizione, vabbè, me lo darete, ma se non c'è è una cosa gravissima, perché è scaduto l'anno scorso. Grazie. Facciamo rispondere subito, se non ci sono, signor Sindaco prego, rispondiamo subito così. Sul tema dell'isola ecologica le rispondo con beneficio di inventario, nel senso che mi riprometto di verificare documentalmente, ma sono quasi certo, perché ho ancora ragionevolmente memoria, che la verifica della Polizia Municipale non ravvisasse elementi di pericolo oggettivo e rinviasse a una rivalutazione dell'area connessa ad altri interventi di miglioramento della viabilità, proprio perché siamo consapevoli e concordiamo con lei sul fatto che sia una zona che ha significativi momenti di criticità, non a caso i residenti della frazione di Renazzo avranno notato che la presenza della Polizia Municipale è significativamente aumentata negli ultimi mesi. Sul secondo tema, che in realtà si riconduceva esclusivamente alla domanda del perché non ha avuto il capitolato, è questa, prima vi aveva fatto riferimento a un paio di altre richieste, invece ha chiesto tre robe, dice su due si è andati bene, l'altra piaciuto intermedio, volevo capire se è perché sono brutto e cattivo, è perché non è perché è brutto e cattivo e questa è la buona notizia, la seconda buona notizia è che non siamo nemmeno in adempienti, semplicemente lei ha chiesto il capitolato, il capitolato non esiste, perché adesso arrivo in prosieguo, perché proprio la prima richiesta di accesso agli atti che lei faceva era in merito all'ispezione del 2007, tra le mille cose sulle quali abbiamo qualche problemino è proprio la modalità di assegnazione del Carnevale col modello del capitolato così come era formulato, l'amministrazione ha deciso in via sperimentale di assegnare la gestione del Carnevale al Proloco nell'ambito della convenzione che disciplina i rapporti tra Comune e Proloco finalizzati alla promozione del territorio, quindi ridando centralità a un ente storico, importante e nazionale come appunto del Proloco, nella consapevolezza che la Proloco non abbia da sola l'organizzazione di mezzi necessaria per l'intera gestione, ma nella convinzione che questo sia un primo passo, almeno questo testeremo nella normalità sperimentale che decorrerà tra poco, sia un primo passo verso una ricocitura dei rapporti tra la città e questa manifestazione che se da un lato è una vetrina per cento in Italia e non solo, dall'altro lato viene anche vissuta con un certo grado di sofferenza dai centesi, proprio perché si obietta che viene lasciato tutto in mano a un privato. In questo contesto il Comune ha affidato in prima istanza a un'associazione no profit, riconosciuta con legge regionale, il compito di fare da cerniera tra questa manifestazione e il nostro territorio. Devo dire che la Proloco ha raccolto la sfida e per questo li ringrazio anche perché ci rendiamo conto che sono passati molti anni da quando la Proloco aveva una responsabilità diretta su questa manifestazione e che da allora la manifestazione è cambiata. Non nascondiamoci che sicuramente questo è solamente un primo passaggio, non a caso la delibera chiarisce che si sta aprendo una fase di sperimentazione. Consigliere Magagna, prego. Prendo questa come una novità, comunque allora sarebbe stato carino quantomeno mi arrivasse una comunicazione non ti possiamo dare il capitolato per questo motivo perché se no io restavo gli aspettare col cero se non la tiravo fuori oggi. Quindi per correttezza, dato che lei si vanta di essere aperto alla discussione e tutto se a una richiesta dati non si può dare seguito, spiegare il perché e per come perché poi dopo facciamo una richiesta dati per sapere alla Proloco come gli è stata concessa la cosa. Perché allora adesso sono curioso di capire, perché lì ci sarà qualcosa che dice come gestisco la questione e vorrei che... io sono interessato a quello, quindi adesso devo fare l'ora chiedere alla Proloco o sempre tramite il Comune? Tramite il Comune? Ok, grazie. Telegrafico è semplicemente chiedo scusa anche se sono abbastanza incolpevole in questa vicenda nel senso che le interrogazioni le vedo, le richieste di accesso agli atti le visto ma solo come presa visione e quindi non mi sono occupato fisicamente di raccogliere gli atti evidentemente l'ufficio ha sentito che lei ha chiesto una cosa e si è adeguato alla lettera se fu stata un'interrogazione sicuramente mi sarebbe venuto in mente in questo contesto siccome, voglio dire, come dice sempre Mattarelli bisogna essere trasparenti come una stanza di vetro non serve nemmeno che la richieda e le faremo avere copie della Convenzione. Mi sembra che siamo arrivati al termine di questo Consiglio Comunale gentile pubblico, signori consiglieri, signori assessori, signor Sindaco, buonanotte a tutti.